e sono tutti misi puriane e bentornati in questo terzo episodio delle basi di escape from tarco allora intanto vi ringrazio veramente un sacco perché vi stanno piacendo siete contenti di questi video e io sono contento che vi stiano piacendo quindi ovviamente continueremo ricordo che questi video sono per quelle persone che si stanno hanno appena comprato il gioco e non sanno magari certe cose quindi pian piano noi ricopriremo le cose basilare per poi magari arrivare a un qualcosa di più avanzato che magari anche chi gioca da tanto tempo magari non sa poi vi ricordo che in descrizione troverete i link ai vari discord il mio discord personale un po' più intimo diciamo oppure il discord della community italiana dove lì potrete trovare un sacco di persone con cui giocare, scerpa che vi aiutano e bla 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 insomma lì potete trovare tantissime cose attrezzato per tutto quindi vi consiglio vivamente di andare lì allora come detto dallo scorso video il terzo episodio andremo a ricoprire come un ragazzo anche mi ha consigliato le migliori armi per early game e poi andremo a vedere il miglior modo per approcciare il gioco in generale magari c'è chi lo approccia in maniera ultra aggressiva però io oggi vi mostro il miglior modo per approcciare il gioco perché dico che è il miglior modo? perché io ne ho provati veramente tanti di metodi di game in questi tre anni e questo è quello in assoluto che rispecchia il tipo di gioco ovvero un gioco tattico, cioè un gioco di militari è un simulatore tra virgolette e quindi se te lo giochi in maniera più simulativa diciamo come se tu fossi realmente a fare quell'azione sicuramente migliori la tua esperienza di gioco l'ho provato e sono veramente soddisfatto di questo metodo di gioco che ho trovato però ovviamente magari voi vi trovate meglio a giocare più aggressivo a fare altro nessuno vi dice niente però io vi parlo oggi in questo modo perché è una maniera anche molto oggettiva di poter prendere il gioco e poi vi spiegherò più avanti nell'atto pratico il perché e poi andremo a vedere castopco perché è la mappa più facile da ricordare media grandezza e quindi è quella mappa che voi dovrete spammare veramente un sacco per imparare a giocare quindi iniziamo subito sia le migliori armi che i setup con cui andare a fare questi game allora qua sopra li metto qua sopra e facciamo così potete trovare sostanzialmente le due migliori armi con cui iniziare a cappino e a k74 leviamo questa e questo voi questa roba la potete trovare l'arma da prapora livello 1 mentre queste protezioni le potete trovare da ragman livello sempre 1 perché questo setup? perché ovviamente potete comprare subito questa roba la cappino non è malissimo sicuramente è meglio che magari avere una pistola perché magari siete in close quarters e dovete avere un'arma automatica la cappino inizialmente a me ha dato un sacco di soddisfazioni ed è una delle armi migliori che potete proprio comprare per inizio game poi c'è il paca che è un livello 2 protegge torace e stomaco ciò significa se magari qualcuno vi spara alle braccia e ha proiettili che fanno più danno alla carne e vi fanno molto più danno rispetto che al torace o allo stomaco perché magari hanno poca penetrazione ha 50 di armor points livello 2 il materiale è la ramide che sostanzialmente la ramide è una specie di fibra una fibra che viene utilizzata per rinforzare anche strutture quindi è una fibra diciamo rinforzante e il paca è fatto di quello che non è male ovviamente per iniziare non è male sembra strano livello 2 tutti la schifano ma non so come mai comunque a me mi abbia salvato diverse volte ovviamente inizio game perché ci sono i proiettili bassi poi AK-74 e questa 6B-23 perché? queste qua si possono comprare entrambe a livello 2 uno di Prapor ovvero l'arma e un'altra è di Ragman quindi questa la possiamo comprare a Ragman è un livello 3 protegge sempre torace e stomaco quindi è più armor class del paca è armor steel quindi è acciaio invece di essere una fibra e ha 60 di armor points quindi ha 10 armor points in più questa è ottima per quando andiamo un po' più avanti e accoppiata con l'AK che l'AKPino lo si regge un po' peggio rispetto all'AK perchè c'ha un recoil orizzontale di 28 più alto che è tanto non sembra ma è tanto e quindi AK-74 la potete comprare da Prapor e questa qui la potete comprare da Meccanica entrambe a livello 2 dei trader poi il metto è il rig il metto SSH-68 che è veramente ottimo perchè c'è la la ricochet chance che è la probabilità di rimbalzo del proiettile alta armor class 3 protegge top top e nape quindi il top della testa e la nuca dietro non protegge le orecchie però è un ottimo il metto perchè insomma quando c'è la probabilità di di rimbalzo alto sono veramente veramente buoni e poi un rig che è grande così non è niente male costa poco potete mettere insomma quel caricatore insomma gestite un po' come volete o 3 caricatori oppure una o 2 caricatori una cura grande tipo caro saleo insomma fate un po' voi però sempre ragman livello 1 soprattutto questo è il metto per iniziare veramente una bomba poi come proiettili per queste due armi che dovrete iniziare che dovrete utilizzare inizialmente sono i PS perchè vabbè potete comprare PS PRS o i traccianti i PS sono i migliori perchè hanno 50 di danno alla carne e 25 di penetrazione rispetto ai traccianti che hanno 57 di danno e 20 di penetrazione quindi sono 7 di danno in più alla carne ma comunque 5 meno di penetrazione oppure i PRS che hanno 60 di danno quindi molto di più di entrambi però 14 di penetrazione però sicuramente i PS se hanno tanta penetrazione potete penetrare meglio queste class armor 2 poi se volete ci sono i BP o i BT i BT hanno 44 di danno alla carne e 37 di penetrazione mentre i BP 48 di danno e 32 di penetrazione quindi sicuramente i BT se volete penetrazione sono i meglio di questi due che li potete scambiare con il Tushonka questo alto ci sono due tipi di shot di Tushonka uno basso e uno alto e quindi se volete subito essere ultra forti vi comprate i BT che alla fine sono BT, BS e Eagle Nick sono quelli che la gente usa quando si arriva un po' più nei momenti avanzati quindi sono molto buoni anche i BP se magari vabbè potete fare un miscuio vedete che cosa trovate insomma magari vi tenete il Viper e il Tushonka vedete voi che cosa fare però se non avete quelle cose comprate i PS quindi ora che siamo insomma ho ricoperto le migliori armi da utilizzare non ho messo le pistole perché alla fine le pistole dipende un po' che cosa vi trovate meglio io andavo sempre con la PM non mi trovavo male inizio game fate voi con la pistola che vi piace di più utilizzatela e fate come volete io vi ho mostrato i fuscili d'assalto da utilizzare quindi adesso parliamo un po' come è che va approcciato il gioco se voi vedete nel mio canale ci sono praticamente tutti i video dove ad esempio quello su interchange che anche fra tutti ce la giochiamo molto con calma un po' più protettivi controlliamo meglio le zone eccetera senza correre troppo e bla 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 oppure in altri miei video anche quelli di clip si vede che magari si sta fermi anche 10 minuti in un punto e così via queste cose non vanno prese male magari c'è quello che dice te camperi bla 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 no perché il gioco è aperto a più stili di approccio io posso giocarmela come se fosse COD o posso giocarmela stando fermo per 40 minuti e giocarmi gli ultimi 10 minuti o 5 minuti di ride sta a voi decidere come giocarvela ma in questi 3 anni che io ho provato a correre come se fosse COD ho fatto 10 milioni di modi diversi e bla 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 ma ho trovato che questo metodo di approccio più lento è veramente ottimo mi ha salvato un sacco di volte la vita questo perché perché se voi siete in una situazione in cui siete in 2 contro magari 1 ok il vostro compagno muore ma voi siete lenti e non andate e non siete subito non avete la foga di prendere l'uccisione sapete che quella persona la sentite perché voi siete fermi sentite i passi quindi se voi siete in una stanza e sentite questo che si avvicina e lo sentite ancora più vicino potete iniziare subito a sparare in prefire e quindi questo passa e lo fate ovviamente anche l'altro se l'altro è bravo se ha la vostra posizione magari corre e vi fa però non è detto cioè io un sacco di volte sono riuscito a giocarmela più lento e ho sempre battuto quelli che se la correvano come dei pezzi di merda cioè correvano 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 io li sentivo e posso subito sapere dove mirare perché lo sento mentre lui non sente me e non sa dove sono mentre io so dov'è lui quindi questa è un po' l'infarinatura di come insomma di come andrebbe giocato Tarkov però voi trovate la vostra vedete come vi trovate meglio ma io vi consiglio vivamente di giocarvela un po' più lenta di utilizzare tutto il tempo del ride perché avete quel tempo più lo sfruttate meglio è così imparate bene a giocarvela e poi insomma sta a voi io vi ho detto la mia di come del mio approccio migliore che ho trovato e fate comunque ok adesso invece andiamo un po' a capire come approcciare custom vediamo i vari punti di spawn dove si potrebbe trovare la gente e così via io sono spawnato di qua dove c'è questo fabbricone saliamo di sopra c'è la c'è una rotaia laggiù in fondo c'è una zona dove la gente potrebbe saltare allora dove ci troviamo praticamente noi qua siamo alla old gas station quindi la c'è la old gas station dove qua possono spawnare scav player e scav normali ed è anche un'uscita quella la e è aperta con sapete che è aperta perché ci sono dei flare verdi mentre se torniamo indietro dobbiamo stare attenti da quella parte perché perché ci sono di là diversi spawn si può spawnare là dentro si può spawnare di dietro in fondo si può spawnare in direzione di là dove c'è diciamo la zona nuova quella che hanno aggiunto insomma l'ultima che hanno aggiunto però dovete stare veramente molto attenti di qua anche là sopra ci può essere lo scav cecchino quindi controllate decidete un po' voi come giocarvela se ucciderlo o magari aspettare che spoti qualcuno in modo che sapete un po' come gestirvi la situazione così magari sapete che il scav cecchino ha spottato qualcuno e sapete insomma decidete un po' di giocarvela a seconda di ciò però facciamo finta che io ho appena iniziato a giocare quindi spawno di qua allora io me ne vado qui entro cosa faccio controllo un pochettino qua perché può essere una batteria può spawnare quello può spawnare roba dentro alla giacca qui c'è una c'è una c'è una cassa e anche di qua c'è una bella cassa di armi più grossa di quella la quindi vi controllate quelle vedete un po' che cosa trovate poi se magari vi va andate da questa parte arrivate a questa porta e magari vi potete aprire questa questa qua che la potete aprire e questa porta non tutti lo sanno ma gente che gioca anche da due anni che giocano con me non sapevano nemmeno se potesse aprire però state attenti perché si può aprire e magari pensate ah questa è una di quelle porta che non si apre gli date le spalle quindi comunque state attenti qui dentro c'è uno spawn come c'è lì dietro dove siamo spawnati noi ora e qua noi ci troviamo nella zona delle fabbriche dove lì c'è praticamente un'uscita che è una di quelle uscite che non si sa sia aperta o meno lo scoprite che c'è una luce accesa sopra come sempre attenti se qualcuno arriva da là non è detto che magari magari spawnate anche da soli qui non è sempre detto che vi spona gente intorno state attenti dalle montagne di là perché ci possono essere i player con mirini da distanza quindi cercate di non essere esposti da quella montagna quindi se o andate là che c'è la shortcut che si apre con la factory key o volete o ve la sentite e volete andare dall'altro lato perché non vedete magari nessuna distanza se ci volete andare per fare un altro giro cercate di stare coperti da quella insomma dalla collina lassù perché potrebbe essere cosa brutta poi una cosa che vi consiglio di fare che quando mi ritrovo di qua lo faccio è salire sopra questo camion perché perché se vi mettete qua potete controllare se ci sono scav magari ci sono i boss o magari vedete qualche player passare o qualcosa sapete un po' come gestirvela vedete un po' voi se ve la sentite di essere così esposti però basta un attimo salite guardate che c'è nessuno ritornate giù poi visto che avete appena iniziato se volete qua c'è una cassa anche qua di armi c'è questa macchina che controllatela perché ci spawno una chiave importante per una missione però visto che avete appena iniziato e non avete la chiave per entrare lì c'è questo salto da fare lo fate senza correndo saltate e passate da quest'altro lato dove vedete la gas station e altri vari punti della mappa ok adesso abbiamo risuperato il camion verde da quest'altra parte e state attenti magari che se magari non avete visto il ciclino dall'altra parte perché magari è da questo lato quindi state attenti che non ci sia e state anche attenti qui dentro perché è una zona di missione per una missione ci potrebbero essere già magari qualche player che ha rasciato da da questo cancello quindi attenti anche lì attenti qua sopra perché magari uno se la sente sale lì e controlla un po' meglio ok ora abbiamo superato il cancello e ci ritroviamo in questo punto anche qui state attenti le persone ci potrebbero camperare state attenti a quel vagone laggiù in fondo perché ci potrebbe andare gente perché c'è una quest o magari se la sentono e ci vogliono andare per controllare la zona qui avete un punto di loot dove qua c'è ci sono due computer dove appunto può spawnare anche la flash drive per una quest o anche scade video dentro e qua c'è il diciamo come lo si chiama noi è la fabbrica della factory key perché qua ci spawna la factory key oppure dove c'è il morto ora vi prego perché allora qua ci sono due casse c'è una cassa qua e scendendo le scale salendo queste e andando su da questo lato possiamo trovare anche una cassa qui troverete armi mod c'è addirittura chi dice che ci ha trovato un red rebel ice pick che è questo qua che vale un bot ed è molto utile per alcune estrazioni sul riservo woods e quindi controllatele sempre controllate sempre qua sopra o addirittura qua dentro per lo spawn della factory key che vi serve per appunto andare dall'altro lato senza fare il salto e la cosa del morto perché qui c'è il morto e luttatela ci potete trovare cose interessanti anche qua c'è una cassa di tool che anche lì luttatela ci potete trovare cose utili e bla 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 qua siamo in un'altra zona di spawn dove possono spawnare le persone le persone possono spawnare là a quel camioncino che da questa uscita free quindi se voi spawnate da questa parte state attenti perché a me è capitato vedere gente che crossava lì perché lì dentro è anche un punto di spawn quindi state attenti e controllate bene poi ci troviamo in un altro punto di spawn quindi superato questo camioncino c'è questa breccia praticamente questa è un'altra zona di spawn perché o a me è capitato proprio di spawnare tipo qua magari su questa collinetta oppure vi capita di spawnare là dietro dietro a quella roccia lì e quindi se voi spawnate da questa parte state attenti di qua perché magari c'è qualcuno che è spawnato lì e potrebbe pushare subito di qua oppure state attenti là sopra perché là dove c'è quel traliccio ci possono spawnare altre persone state attenti sopra la vostra testa perché ci possono spawnare degli scav cecchini oppure lo scav cecchino può spawnare dentro a quella torre come tanti scav possono spawnare lì che è tutta zona checkpoint poi saliamo 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 e ci ritroviamo al traliccio questa è zona di spawn dove lì c'è una cassa d'armi sopra quei barili ci possono spawnare mod ci possono spawnare mod qua sopra dietro a quei cosi lì c'è un'altra cassa di armi qui c'è un'altra cassa lì c'è una cassa di insomma la cosa delle medicine o addirittura una chiave che spawna lì sopra e quindi spawnate di qua quando spawnate di qua ovviamente dovete stare attenti di là perché è dove lo spawn che vi ho fatto vedere prima oppure dovete stare attenti dall'altro lato ovvero da quelle rocce là dove c'è l'altro tra l'aricio perché possono spawnare persone anche di là quindi una volta che voi siete spawnati qua se avete anche mirino dal lungo potete controllare la zona di là che magari qualcuno sta passando in mezzo magari qualcuno è andato a fare le quest di là magari qualcuno è spawnato vicino al checkpoint e date un occhio di qua che magari escono dalla breccia grande oppure potete benissimo controllare se ci sono da queste rocce la scorta e vedere un po' che cosa fare se siete in gruppo e ve la sentite di andarli a fare uscirvene belli pieni poi scendiamo là come sempre attenti allo spawn scendendo 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 arriviamo qui a queste a queste grate di qua dove possiamo andare dall'altra parte ora c'è magari chi fa tutto il giro dalle rotaie ma c'è chi non lo sa e si può passare da qui dietro saltando e arrivate qui dietro senza fare un giro grande dove c'è il boiler attenti anche là che magari ci può camperare qualcuno e poi qua trovate tutta la zona di scav e scav boss dove può arrivare anche gente vi do un consiglio se volete controllate qua dentro che lì ci spawn una chiave importante per una quest oppure qua ci possono spawnare cure anche a terra e poi qua dentro potete trovare cose da mangiare da bere soldi dentro alle casse magari sigarette qua dietro per le quest qua dentro ci sono uffici con loot la cassa d'armi questo è un ufficio di roba di medicina questo è l'ufficio con una cassaforte e questo è quello che non serve la chiave dove c'è altra roba questi due servono le chiavi quindi insomma state anche attenti qua dentro poi là c'è il ponte dove la gente ci può stare sopra poi andando avanti ci sono questi container blu attenti lì che c'è un passaggio dove anche lì la gente potrebbe camperare se sono dall'altro lato qui c'è un altro passaggio e saliamo dove da quella parte c'è l'altro spawn che vi ho detto di qua c'è il ponte di là c'è una parte che divide tutta quella zona alla strada dove ci potrebbero passare e qua come non so insomma tanta gente questa la chiama collina 2 questa insomma sostanzialmente in tanti l'ho sempre sentita chiamare collina 2 anche io la chiamo collina 2 oppure insomma se vi trovate in questa zona e chiamano collina qua insomma guardate lì io quella l'ho sempre chiamata collina chiamatela collina poi qua c'è una tenda dove anche qua potrete fare incontri perché qui dietro c'è il laser ci spawna una flash drive eppure altre robe qua dietro al tronco poi andiamo avanti e arriviamo nella zona dei dormitori dormitorio piccolo o dormitorio grande oppure due piani o il tre piani quando arrivate di qua state attenti se magari qualcuno è già arrivato al tre piani che non siano in quelle due finestre e poi se siete in due vedete cosa fare se un vostro compagno si mette là voi aprite la porta e controlla se non c'è nessuno nel corridoio oppure non so voi aprite e vedete un po' come giocarvela però state anche attenti se qualcuno è entrato potrebbe camperarsela o in quella porta là o di là o direttamente sdraiati nel corridoio dormitorio due piani e tre piani ci potrebbero passare anche gli scav boss questa è un'altra zona di scav boss e quindi anche di fight di player che se voi arrivate di qua state attenti a quel muro che potrebbero arrivarci persone e lì c'è un'uscita con la macchina che quando c'è la macchina vi costa 7000 rubli a testa per poter estrarre avete mi pare un minuto prima di estrarre qua salite potete aprire questa porta a differenza di questa e quella là sopra non potete aprirla invece dall'altro lato potete quindi voi salite controllate che non c'è nessuno entrate vi fate i vostri giri piano piano controllate che non ci siano scav e player e vi consiglio sempre se siete in due di lasciare il terzo piano controllare che non ci sia nessuno andare là in fondo in modo che quello là in fondo si controlla di qua e poi se siete in due uno consiglio che rimanga sotto di qua al secondo piano in modo che sente cioè quello che è sopra sente colui che arriva da questo lato dalle scale di ferro e voi vi mettete magari di qua non so dietro a questa porta dove volete così potete controllare che qualcuno non arrivi da qua che se il vostro compagno insomma se il nemico sale di sopra non passa dal secondo piano c'è il vostro compagno che protegge se poi sale da voi lo vedete voi e se sentite voi ferro da questa parte potete chiamare ferro quindi il vostro compagno sa se magari qualcuno sta arrivando direttamente da fuori al terzo piano o sta arrivando da voi al due piano e quindi date un occhio oppure vi potete mettere qua dietro in modo che se qualcuno entra al secondo piano vedete la porta e vedete anche le scale da qua e il vostro compagno che è in fondo vi chiama alle scale di ferro di fuori vi potete girare poi scendiamo questa zona dove spawna la factory key là sopra quel tavolo quindi date sempre un occhio veloce e poi magari uscite state attenti perché la gente potrebbe camperare qua in mezzo perché magari io me la campero qua sento quello che apre e lo vedo posso vedere benissimo quindi state attenti oppure se andate di qua da mollate sempre un occhio raso muro e mollate sempre un occhio là sopra che praticamente qua sopra si chiama collina 1 le persone che arrivano dall'altro lato spesso e volentieri si mettono qua quindi state attenti e se vogliono se la mettono a camperare qui che è proprio collina 1 magari dentro a questo cespuio dentro cespuio quindi state veramente attenti la collina 1 possiamo vedere un'altra zona dove di là c'è un'estrazione o potrebbero arrivare persone più avanti ti puoi controllare se là non c'è lo scav cecchino che non ci sia anche là sulla torre con le luci rosse o che magari insomma datevi un po' con occhio però comunque state sempre attenti quindi noi scendiamo e ci ritroviamo di qua dove lì c'è la bus station zona di scav qui c'è una breccia dove si entra in questa praticamente è la fossa dove di là c'è construction e qua c'è lo factory shack e altre robe dove lì c'è diciamo la zona la vecchia zona nuova però anche qua state attenti qui perché è zona di quest la gente se la potrebbe camperare anche da questa parte oppure di qua tipo dietro a quei massi dietro a quella a quel muletto là c'è l'entrata e uscita per andare in strada la gente potrebbe camperare anche la nebidoni insomma state attenti oppure potrebbero camperare qui a sinistra nel casotto oppure a quell'angolo lì quindi mollate sempre un occhio come qui a questi angoli insomma controllate sempre tutti gli angoli qua c'è tutta la zona dei boiler e di qua si può andare dietro a questo boiler e state attenti perché qui a sinistra c'è filo spinato mentre a destra no quindi vedete un po' voi come ripulirla se sentite del filo spinato magari sapete che a sinistra insomma voi sparate e bababà qualcuno potreste a malzarlo se sentite i rumori dovete stare attenti di qua perché vi possono vedere quelli lì dentro oppure attenti anche da questo lato destro quando passate qua date un occhio bene come date un occhio qui a destra e anche qui dentro qualcuno potrebbe camperare come qua dentro io ce l'ho trovata gente e anche dietro a questo bidone dove se volete saltate in questa saltate qui sopra in questa diagonale in modo che voi atterrate sopra la roccia e non vi ammazziate qui zona di quest per l'orologio e questa è tutta construction ci potrebbero essere player di sopra player a camperare sotto alle scale o in mezzo alle scale che da questo buco magari controllano lì che è il corridoio magari controllano le varie brecce e poi se quello sopra se vuole può controllare il ponte che magari qualcuno non arrivi dal bordo che qualcuno non arrivi da là che controlla collena insomma fate voi corridoio corridoio dove gente se la può camperare dietro a quel cespuglio o a sinistra o addirittura vi possono uscire voi date sempre un occhio se lì è pulito mollate sempre un occhio state tipo in mira quando passate aiuto di qua passate così almeno se qualcuno arriva voi siete già pronti e poi di qua c'è la breccia ad angolo dove anche di là spesso e volentieri ci arrivano giocatori quindi qua noi siamo arrivati al corridoio e questa diciamo la chiamano la L questa zona perché il corridoio fa una L e quando vi trovate in questa zona c'è tipo non so è vicino al morto perché dentro questo c'è spuglio c'è il morto dove vi trovate la non-kick che vi serve per una chiave anche qua occhio perché ci potrebbero essere scava che girano se non di qua o per strada quella è un'uscita che vedete è aperta vi levati il cannone è aperta da qua state attenti perché anche di là zona di spawn potete spawnare anche qui che anche questa è tutta una zona di spawn che da là controllate se c'è il cecchino se siete qua e volete state attenti là dietro perché anche là dietro è una zona di spawn dietro a quello a fare lì e la gente potrebbe subito pushare la secca quindi non so date un occhio qualunque è una zona di spawn zona di spawn anche là zona di spawn e quindi mollate sempre un occhio se siete vicini se qualcuno non arrivi se volete ve lo aspettate non so 5-10 minuti il tempo che qualcuno arrivi andiamo dritto superiamo tutto là ci può passare la gente lì sotto come là sotto qua altra zona di scav che possono aggirarsi per di qua soprattutto quella che è gelateria o minimarket la gente può spawnare gli scav possono spawnare lì state sempre attenti a quell'angolo là che ci potrebbero spawnare ci potrebbero camperare persone e nell'angolo qua giù in fondo a destra esattamente là dove vedete il fuoco è un'estrazione quindi magari voi siete spawnati dalla parte dove siamo spawnati noi quindi avete tutta la zona di uscita di qua ovvero quella là che era accesa questa qua che è aperta se questa non è aperta e volete passare da questo ponticino state attenti che qualcuno non se la stia camperando aiuto e qualcuno non se la stia camperando lassù perché ci sono tanti bastardi che se la camperano lassù come dritto in là che c'è una roccia o varie o vari cespugli e attenti in questa direzione perché c'è l'altro ponticino e la gente potrebbe arrivare da qua quindi loro passano salgono di qua e vi vedono quindi state occhio anche qua perché a me è successo salite 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 questa è un'altra zona di spawn quindi se vi trovate qui siete molto vicini a due piani se volete lo potete pushare per prendervi subito posizione qua ci ritroviamo nella zona del rosso perché quello è praticamente un capannone rosso dove potete spawnare anche dentro potete spawnare laggiù in fondo che c'è l'uscita crossroad e potete spawnare laggiù in fondo come di qua può spawnare gente proprio dietro a questo muro proprio dietro a questo muro c'è un'altra zona di spawn dove le persone se ne possono benissimo uscire da questo da questo gioco di muro qua quindi lì è zona di spawn attenti di là perché c'è uno spawn le persone potrebbero aggirarsela di lì tutta zona di scav occhio dentro al rosso che le persone ci possono andare benissimo perché là sopra ci sono gli uffici dove c'è praticamente quest soprattutto lì c'è una quest e poi occhio a questo casotto blu perché gente dentro potrebbe stare facendo gli schedari insomma date un occhio a tutta la zona come laggiù in fondo che ora andremo a vedere qua c'è la breccia occhio qua dietro se qualcuno ci passa occhio lì zona di spawn la gente potrebbe passare come gli scav occhio qua dentro perché c'è loot di cassa anche di armi è qui che la gente ci viene quindi occhio occhio là perché è dove spawna la gente che passa quel container ed esce di qui occhio di là perché magari qualcuno ci spawna potrebbe uscire o da lì con la testolina o anche da laggiù in fondo allora quindi questa zona di spawn è anche di estrazione se andiamo avanti da questa parte occhio lì perché c'è uno spawn pure lì in quel punto quindi noi ci ritrovavamo alla breccia quando vi ho detto di stare attenti che lì qualcuno spunti la testa però controllate anche a destra perché se qualcuno magari è spawnato qua e voi magari siete spawnati al rosso e volete correre per pushare se vedere qualcuno sta passando di là insomma aggiustratevelo un po' voi insomma state attenti lì è un'altra zona di spawn zona di quest quest iniziali dove c'è il marker di prapor quindi anche qua potrete trovare persone qui zona di spawn ed estrazione quella là che è trailer park quindi se voi spawnate lì sempre attenti laggiù in fondo perché se qualcuno spawna all'angolo potrebbe dare un occhio di qua e attenti anche da quel lato perché là spawnano persone vi possono salire in là e controllare questa zona quindi se magari voi spawnate là entrate se volete o entrate direttamente nei parcheggi perché qualcuno che è spawnato qua ci potrebbe entrare oppure controllate tutta la strada di qua poi un piccolo accorgimento che vi consiglio di fare date sempre un occhio lì perché quella macchina spawna con il baule chiuso le persone ci vanno spesso perché ci puoi trovare da bere ma anche la sacchetta delle delle cose delle medicine anzi addirittura anche i proiettili però nelle medicine ci potete trovare il saleva per la prima missione della terapista quindi sempre un occhio perché se magari è aperto qualcuno ci è già passato però se ovviamente qualcuno è intelligente lo apre e poi quando se ne va se lo richiude e poi mollate sempre un occhio lì perché potrebbero arrivare le persone dall'altra parte quindi niente io sono arrivato alla fine di questo video nel prossimo avevo pensato di mostrarvi tutte le armature e la differenza tra i vari materiali e perché una armatura è meglio in quel materiale eccetera e sarà dedicato a quello pensavo di farlo così c'era un ragazzo che aveva consigliato di fare metodi di farm di base avanzati ma è un po' difficile perché ognuno sostanzialmente c'è il suo metodo ad esempio io i soldi li faccio ammazzando le persone e vendendo le loro cose tenendomi solo le armi più costose più moddate se sono moddate bene o le armature più costose come i caschi eccetera quindi ognuno c'è il suo metodo non c'è proprio un vero e proprio metodo di farming almeno che non avete le chiavi andate di accettarne io sono qui che sto registrando da 51 minuti spero sia venuto spero di poter riuscire a tagliare 20 minuti di video non lo so spero vivamente di aver coperto almeno tutti gli spawn tutti i punti dove le persone potrebbero uscire dove dovete dare un occhio dove dovete stare attenti e così via da dove passare bla 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 ovviamente io non mi scrivo mai niente vado a conoscenza anche questa mappa comunque la gioco spesso e vi ho detto io ve la gioco così controllo sempre miro sempre nei punti perché così sono già belle e pronto se qualcuno passa perché so che lì potrebbero passare ovviamente l'esperienza vi da queste conoscenze le persone potrebbero avere metodi diversi di gioco e potrebbero passare da punti diversi però questa è la mia esperienza è stata questa vi ho mostrato quindi i maggior punti dove ho trovato le persone come lì dentro le persone ci vanno perché ci sono sacchette cose di armi e tante altre cose quindi bisogna stare proprio attenti anche lì quindi niente davvero spero di aver coperto tutti i punti spero vi sia stato veramente molto utile spero di essermi spiegato molto bene datemi dei feedback vi ricordo che in descrizione trovate link utili come al discord il discord della community e così via e nulla noi ci rivediamo sempre lunedì alle 14.30 per un nuovo video sulle basi e vi ricordo di consigliarmi che cosa mostrare nei prossimi video e niente vi ringrazio vivamente della visione e al prossimo video ciao ciao ciao